belle impressioni fia che fighi che siete però vedi, il squadro ha rischiato con me lei non rischia tu mi hai detto che iniziamo a leggerci a mezzo Gione io non sono neanche partito e già mi sto attaccando c'è un odio di benzina assurto tu pensa che io non posso neanche facciare la borsa la vespa con la cresta praticamente senza vespa siamo rimasti di esqualo è arrivata anche la mia mi porti te? si si, con l'uso è sicuro, con il lavoratore te la piange allora si che casca mi ha detto se fa come il collaudatore della Ferrari siamo a posto è arrivata che c'è